La prevenzione delle infezioni è particolarmente importante in ogni ambito sanitario e a maggior ragione nei luoghi dove si pratica la chirurgia, le sale operatorie, innanzitutto anche se per convenzione si definiscono infezioni del sito chirurgico quelle che si verificano entro 30 giorni dall'intervento o anche un anno se si tratta di impianti. A Camposampiero, nel Padovano, nelle aule didattiche del Centro Servizi Sociosanitari Guido di Rosignoli, la sezione Veneta di Simpios, la società italiana multidisciplinare per la prevenzione delle infezioni nelle organizzazioni sanitarie, ha organizzato un incontro formativo su questo tema, destinato a diversi professionisti, medici e chirurghi, ma anche infermieri, biologi, farmacisti e assistenti sanitari, tutte figure che devono essere coinvolte nella prevenzione delle infezioni. Il problema invece del mantenimento di un ambiente completamente sano e di avere la massima cura per prevenire le infezioni all'interno dell'ospedale è un problema che va affrontato solo con un atteggiamento multidisciplinare. E la nostra società è una società che questo vuol fare, vuol prevenire, vuol cercare di diffondere la cultura e che comunque è uno dei criteri di qualità della nostra assistenza sanitaria, che è fra i più importanti e che deve sempre essere il punto di riferimento di tutto il nostro lavoro. Le parole chiave sono quindi prevenzione e comunicazione, dalla sala operatoria al letto di degenza fino ai familiari, tutti devono essere coinvolti nel contribuire a diminuire i rischi dopo un intervento chirurgico. Professore, è importante imparare a prevenire queste infezioni che possono anche avere delle conseguenze molto gravi? Certo, la prevenzione fa parte di quelle che sono le cose fondamentali nell'ambito dell'infezione ospedaliere. Infatti più del 30% delle infezioni può essere in qualche modo prevenuto, quindi di conseguenza la buona prassi implica una prevenzione di quelle che possono essere dei danni importanti per la persona. Che cosa si può mettere in campo? Sicuramente la conoscenza, quindi questa è la cosa più importante, la formazione degli operatori, che non sono soltanto i medici, ma sono tutti i professionisti sanitari che entrano all'interno dell'ospedale. Questo sicuramente è l'aspetto più peculiare, anche perché le figure stanno cambiando e di conseguenza deve cambiare anche la formazione nei loro confronti. E ci sono regole anche molto semplici che mettono a riparo il paziente, ma anche i suoi cari, dalla propagazione dell'infezione. Ci sono dei gesti anche semplici che servono a molto però? Sì, infatti il lavaggio delle mani è una delle attività molto semplici, ma che però aiutano proprio a ridurre le infezioni. Il lavaggio delle mani da parte degli operatori, prima di avvicinare un paziente, dopo che hanno fatto alcune attività, dopo che hanno toccato l'ambiente circostante del paziente. Ma non dimentichiamoci anche di tutte le persone che vanno a trovare un paziente. Quindi la buona abitudine di lavarsi le mani non appena si esce all'ospedale è sicuramente fondamentale.